Il centro-sinistra per le comunali a Bari, la coalizione dovrebbe trovarsi per le unitarie il 7 aprile prossimo con 6 seggi, come chiede il Partito Democratico, con l'unica garanzia della pre-registrazione online dei votanti. Le iniziative dedicate all'8 marzo, festa della donna in Puglia, dallo sportello antiviolenza Foggia al convegno sulla parità di genere con la CGL, passando per l'estro di otto artiste con la mostra nella Galleria Misia a Bari. Ad Alberobello gli stati generali del turismo e della cultura, terza e ultima giornata dedicata alla costituzione di un comitato scientifico locale per la capitale italiana della cultura 2027. Ben ritrovati con l'informazione di Antena Sud, ripartiamo dai territori di Bari, Labatt e Foggia con la politica centro-sinistra barese al bivio sulle primarie. Al Partito Democratico non bastano le condizioni poste dalla convenzione da Michele Laforgia sulla consultazione, idem irrevocabili sul voto aperto e senza pre-registrazione chiusa alla vigilia. Non siano una corsa a ostacoli, spiegano. Sentite. Guardate, io non so se sono ostacoli strumentali, ma non deve essere una corsa ad ostacoli venire a votare le primarie. Noi dobbiamo costruire le regole più semplici possibili per consentire a tutto il popolo del centro-sinistra di venire a votare liberamente. Sia il voto elettronico, se i tecnici lo vorranno, eppure a sei seggi, meno della metà dei quindici che avrebbero voluto in partenza, ma le unitarie non siano un percorso a ostacoli a partire dal livello di apertura della competizione e dal termine per la pre-registrazione dei votanti, che non si può chiudere alla vigilia e questo è un punto fermo. Dal PD non ci stanno. La strada per la consultazione chiamata a scegliere il candidato a sindaco di Bari del centro-sinistra torna in salita dopo le condizioni poste dalla Convenzione e da Michele Laforgia. Noi non siamo contro la pre-registrazione. Se tecnicamente i nostri tecnici, giuridici e informatici diranno che è possibile farla, siamo a favore. Ma noi riteniamo che il giorno del voto ci si debba poter registrare nel seggio e votare, come a tutte le primarie in tutta Italia. Troppe incognite dal funzionamento della piattaforma online alla privacy e al coinvolgimento delle fasce più fragili della popolazione sono quelle che hanno eletto Vendola, Schlein, Emiliano e De Caro. Senza un accordo spiegano, si torna in assemblea, a meno che qualcuno non abbia deciso di rinviare la conta direttamente al primo turno di giugno. Io spero che non sia così. Noi lavoreremo fino all'ultimo per tenere la coalizione unita, perché i nostri avversari sono la destra. Si torna in assemblea non perché l'assemblea ponga i voti, lo strumento delle primarie o unità. Si torna in assemblea se chiariti i passaggi tecnici, noi abbiamo la possibilità di andare in assemblea e dire allora la preregistrazione funziona in questo modo, il voto elettronico funziona in questo modo, ci rimettiamo all'assemblea perché ratifichi questa modalità di voto. Adesso la pagina dedicata al lavoro in Puglia, il sciopero generale dei dipendenti Enel, in tutto interessati oltre 2000 lavoratori delle varie aziende del gruppo. Sono scesi in protesta anche a Bari. Sciopero generale nazionale dei dipendenti Enel, indetto da varie sigle sindacali come Firctem, CGL, Fly, Cisle e WiltecWil, in Puglia interessati oltre 2000 lavoratori delle varie aziende del gruppo. I sindacati in particolare chiedono che l'azienda sia in Italia la protagonista della transizione energetica e digitale, realizzi i progetti previsti e finanziati dal PNRR e investa su A7 persone. Ma al momento c'è solo spazio per le preoccupazioni. Verso un'azienda sostengono che sta focalizzando la sua attenzione esclusivamente sugli aspetti finanziari a discapito dell'occupazione, della qualità del servizio e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per come si sta comportando non ci sembra che debba fare da protagonista, ma siamo fortemente preoccupati pure per il futuro dei lavoratori, perché un'azienda che non assume ed esternalizza tutte le attività veramente ci deve far preoccupare per il futuro. Cerca soltanto di ridurre gli organici con delle ricadute negative sull'organizzazione del lavoro, a iniziare dagli operativi per i quali si vuole allungare la giornata lavorativa introducendo dei turni, vuole ridurre lo smart working in maniera sensibile e drastica senza preoccuparsi del bilanciamento dei tempi di vita e lavoro. Per noi questo tipo di atteggiamento non è accettabile. Tra l'altro il problema non è soltanto di merito. Cambiamo argomento. Sarà attiva anche a Molfetta la PIM, l'unità di pronto intervento minore. Un accordo tra Comune e Tribunale dei Minori di Bari per intervenire sulle prime avvisaglie del disagio minorile. La devianza e la criminalità minorile sono in continua espansione. Nelle province di Bari-Battefoggia nell'ultimo anno si è registrato un incremento dei reati del 7,7%. Ben 985 i procedimenti penali iscritti e ha aumentato anche il numero delle ragazze entrate nel circuito penale, 147 casi in tutto il distretto. Sono numeri che preoccupano e per cui il prossimo 19 marzo sarà sottoscritto anche a Molfetta, dopo l'esempio di Bari che lo ha recentemente rinnovato, il PIM, il protocollo tra il Comune e la Procura dei Minorenni di Bari, per intervenire tempestivamente nei casi di devianza. Questo permetterà di intercettare immediatamente queste situazioni di rischio, di intervenire e eventualmente dare maggiore assistenza sia agli stessi minori, alle famiglie o di fare una presa in carico immediata. Dopo aver sperimentato tutte le varie attività, i psicologi nelle scuole, l'homemaker, il doposcuola, i laboratori di legalità, abbiamo visto insieme all'istituzione minorile che c'era un gap, cioè quello di intervenire proprio prima delle commissioni del reato. Il pronto intervento minore segnalerà alla segreteria civile della Procura di Bari tutte quelle situazioni ritenute al limite presenti sul territorio cittadino. È previsto anche il coinvolgimento del settore socialità che metterà a disposizione un gruppo di assistenti sociali i quali lavoreranno in stretta sinergia con la Procura, assieme a degli agenti della polizia locale, appositamente incaricati che si interfacceranno con i servizi del territorio come la scuola, la medicina di base e la ASL. Nei casi peggiori, bisogna però anche dirlo, anche intercettare quelle situazioni che invece dal civile potrebbero avere dei risvolti anche nel penale. E adesso pagina dedicata alle iniziative per l'8 marzo e dunque per le donne a Foggia, allo sportello antiviolenza ha fermato il protocollo di intesa tra Procura e impegno donna. Nel contrasto alla violenza di genere, tanto c'è ancora da fare e non sono mai abbastanza gli strumenti normativi e formativi per sradicare un fenomeno strutturale tutt'altro che in calo. A Foggia, l'Associazione impegno donna e Procura fanno fronte comune, sottoscrivendo in un giorno simbolico, qual è l'8 marzo, un protocollo di intesa operativo attraverso il quale, nello specifico, l'Associazione si impegna ad attivare presso la Procura lo sportello violenza maschile contro le donne, per alcuni giorni alla settimana con personale qualificato per fornire servizi rivolti al pubblico e all'autorità giudiziaria quando richiesti. Linguaggi, competenze, conoscenze vanno condivisi e quindi sicuramente la valutazione del rischio. Avremo una serie di cose a cui mettiamo a disposizione e la Procura utilizzerà quando vuole e se vuole. Noi operiamo a valle del fenomeno, cioè quando si è manifestato, però questo ci consente attraverso quella che è una unione dei saperi di poter svolgere un'attività che poi avrà anche un'efficacia perentiva attraverso il Centro per l'Assistenza per gli Uomini Violenti, oltre che per tutte le attività che possono consentire di essere vicine alle donne nella fase complessa della denuncia e soprattutto evitare la vittimizzazione secondaria. Se ancora non si ottengono i risultati sperati, forse perché l'attenzione è più spostata sull'aspetto repressivo e lei parlava invece dell'importanza della giustizia riparativa. Assolutamente sì. Un uomo abituato a dirimere le sue conflittualità con la violenza in una posizione di supremazia non penserà alle conseguenze nel momento in cui la sua rabbia esplode. Invece sarà frenato se ha dentro di sé proprio il rifiuto della violenza come mezzo di risoluzione dei conflitti. Bisogna iniziare dalle scuole, dai bambini. Ed è ancora lunga la strada da percorrere per quanto riguarda i diritti delle donne nei posti di lavoro. Meno donne assunte rispetto agli uomini. Il dato è evidenziato dall'assemblea CGL che si è svolta a Bari, cercando di individuare strategie utili ed efficaci per colmare questa lacuna. Andare oltre la precarietà e quindi combatterla. Cominciano una serie di appuntamenti elaborati dalla CGL di Bari ed il primo riguarda anche il divario occupazionale tra uomini e donne, il tutto tra l'altro, alla vigilia della festa della donna dell'8 marzo. Solamente il 44% delle 280.000 assunzioni riguarda il gentil sesso e il dato peggiora nel momento in cui si passa alle assunzioni a tempo indeterminato, che riguardano solo il 37%. Non è però soltanto il lavoro ad essere coinvolto in questo triste trend. Le discriminazioni ci sono anche in politica. È inutile dirlo, così come nel lavoro, così nella scuola e nel mondo anche del tempo libero. È una discriminazione che spesso passa dalle azioni, ma anche dalle parole, anche dai media, da come si narrano le notizie che riguardano le donne. Non vanno poi neppure trascurati i livelli di competenza dei lavoratori e delle lavoratrici. Inoltre è necessario proporre adeguate contromisure. Non possiamo assolutamente calare l'attenzione e l'attenzione verso il recupero di questo divario di genere che insiste nel mercato del lavoro. Non possiamo farlo a maggior ragione oggi con questo governo di destra, che nonostante una Presidente del Consiglio donna, in realtà prova a recuperare il ruolo della donna come angelo del focolare, quindi moglie, madre e ben distante dal lavoro extra domestico. Ed Andrea, la Multiservice, restiamo in tema, ha ottenuto la certificazione di genere ed è tra le prime società pubbliche ad averla conseguita. Oggi, nella giornata della festa della donna, l'annuncio ufficiale nella sala consigliare del Comune. La nostra società applica in maniera indifferenziata e la stessa maniera i contratti e tutti i vari istituti contrattuali ai nostri collaboratori e ai nostri collaboratrici. Le aziende stanno diventando sempre più consapevoli dell'importanza di garantire parità di trattamento tra i dipendenti sia nelle condizioni di assunzione che nelle opportunità di carriera. Equità salariale e politiche paritetiche, in primis, la Multiservice Spa di Andrea è una delle primissime società pubbliche del meridione d'Italia a conseguire la certificazione parità di genere. Sono contenta perché si ha la possibilità anche sui luoghi di lavoro di spiegare sempre di più che non c'è una festa della donna, c'è un rispetto dei diritti. La parità di genere è individuata come priorità trasversale del PNRR che prevede l'introduzione di un sistema nazionale di certificazione come quella conseguita appunto dalla Multiservice Spa di Andrea che accompagna e incentivi le imprese ad adottare polisi adeguate e ridurre il gap di genere. Una visione molto centrata sulle donne vittime di violenze favorendo il loro empowerment, la loro inclusione lavorativa, la possibilità di avere un'abitazione piuttosto che appunto il provi, piuttosto che il reddito di dignità o comunque una serie di misure atte a favorire quell'indipendenza e quell'autodeterminazione della donna che oggi in qualche modo celebriamo. Provederemo anche ad attuare una serie anche di iniziative che possono anche migliorare per esempio il rapporto lavoro-famiglia che può andare chiaramente incontro alle nostre collaboratrici per cercare di migliorare ma anche di supportarle e non far sentire anche un carico maggiore rispetto ad attività molte volte è solo da pannaggio di donne. Non è una medaglia d'onore ma un percorso di miglioramento continuo o un impegno per la società tutta. In questi giorni ad Alberobello sono in corso gli Stati Generali del Turismo e della Cultura un modo per programmare le iniziative sul territorio. Il territorio si racconta e si promuove. Ad Alberobello la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo e della Cultura. La cultura appunto come motore prima di tutto di un'economia immateriale e intellettuale oltre che come un acceleratore di un'economia reale che Alberobello è capace di generare in importanti ricadute su tutto il territorio della Valle d'Itrie. Lo scopo è esattamente questo, quello di farsi delle domande, di darsi delle risposte, di pianificare il futuro perché il turismo così come la cultura hanno bisogno di pianificazione. Per anni non l'abbiamo fatto e i ritardi che abbiamo sono legati esattamente a quello. Dove invece c'è una pianificazione, vedi gli aeroporti di Puglia, vedi la Puglia che cresce turisticamente e anche la nostra realtà che è inserita nel contesto della Valle d'Itria sta portando avanti dei risultati importanti. Quindi noi stiamo pianificando e stiamo cercando di costruire un futuro molto più organizzato di quello che ci siamo ritrovati. Il ruolo dei comuni diventa fondamentale per il piano strategico di aeroporti di Puglia. Il fatto di poter contare su un'attrattività dei territori così forte, in particolar modo come quella di Alberobello, ormai conosciuta a livello mondiale, ricorderemo tutti quest'estate le immagini di Dolce e Gabbana che hanno proiettato non solo i nostri territori ma anche gli abiti ispirati alle geometrie e alle architetture di questi comuni e chiaramente diventano fondamentali. Tra genitori e figli bisogna favorire maggiormente il dialogo e quindi andarsi incontro è fondamentale. A Bari appuntamento a Acli dedicato proprio a questo tema. Rapporto genitori-figli, amore e conflittualità, tutto sta nel dialogo. Non così frequente e anche i social network non aiutano in questo senso. Bisogna pertanto venirsi incontro. Questi alcuni dei temi trattati nell'iniziativa ospitata dal Comune di Bari dal titolo Nuovi Paradigmi della Comunicazione e Sostenibilità Relazionale promosso dalle Acli di Puglia. Sicuramente fare il genitore lo era prima ma ora ancora più difficile uno dei mestieri più complessi. Più complessi perché il mondo giovanile, il mondo dei ragazzi cambia. Cambiano i linguaggi, cambiano i codici, cambiano gli interessi. Perciò è necessario anche in un certo senso accompagnare e sostenere i genitori per acquisire quelle competenze relazionali, quegli strumenti che ci permettono di dare spazio, concedere spazio dentro e fuori e ricostruire quel rapporto generazionale. Parola d'ordine, dunque, il dialogo. Noi non vogliamo stigmatizzare la tecnologia e la comunicazione virtuale ma dobbiamo aiutare a una comunicazione consapevole e al valore tanto in famiglia e a responsabilizzare i genitori ad assumersi la responsabilità genitoriale che a volte, ripeto, viene anche rosicchiata da tutta questa vita frenetica che c'è e dall'altra parte i giovani ad apprezzare il bello della vita reale, della vita delle relazioni vive. Con eventi come questi cerchiamo di dare supporto alla genitorialità e ad uno stile di vita che sta cambiando per poter dar loro degli strumenti necessari a far sì che questo stile di vita diventi sempre più sano. Due nuove sale, una per la consultazione di documenti online e l'altra per la comunità e le presentazioni. Dopo 95 anni di storia, Cacucci, editore, raddoppia con nuovi spazi dedicati a studenti e cittadini. 95 anni di storia e reinventarsi. La storica casa editrice barese Cacucci apre la sua domus libraria proprio accanto alla sede storica di Via Nicolai. Un nuovo spazio, due locali tra Via Nicolai e Via Roberto da Bari dedicato agli incontri letterari e alla consultazione digitale degli archivi per gli universitari e per la città. Il restyling, anche grazie al finanziamento del bando del comune di Bari, un negozio non è solo un negozio, oltre a fondi privati. Uno dei due locali è destinato alla consultazione online dei volumi. L'altra sala, da 60 metri quadri, invece accoglierà la presentazione di libri e iniziative letterarie aperte alla città. Abbiamo bisogno di questi spazi in una città come Bari, una città che fa tanto rumore da tanti punti di vista e che è tanto viva, ma che ha necessità di questi spazi proprio per poter tornare a meditare su quelle che sono le sue origini e le profonde radici della sua cultura. La prima presentazione affidata a Trifone Gargano con letteratura liquida. Il libro è un'antologia di letteratura liquida, nel senso di ho raccolto da Dante fino a Federica Pellegrini, una pagina ciascuna ovviamente, la letteratura che parla di sport d'acqua. Io preferisco letteratura liquida come espressione perché evoca la metafora del mondo liquido nel quale viviamo senza più capirci nulla. Parte il festival di RF edizioni su diritti civili e libertà, tanti appuntamenti tra luoghi pubblici e scuole in oltre 25 comuni tra il territorio pugliese e quello lucano. Vediamo di che cosa si tratta. Da marzo a novembre un lungo festival itinerante tra i comuni di Puglia e Basilicata che riporta in primo piano i temi fondanti della Costituzione italiana, un festival dedicato alla letteratura civile, nato da un'idea di RF edizioni, il primo del genere al Sud. Parole per la libertà, un segno indelebile. Questo è il titolo. Approfondirà i temi come l'uguaglianza, il diritto al lavoro, i diritti civili, la parità, le politiche contro la violenza, l'immigrazione e l'integrazione, la libertà politica e quella religiosa, e ancora la difesa dell'ambiente, le nuove tecnologie e lo sviluppo sostenibile. Beh, di festival ce ne sono tanti di letteratura, però questo è unico nel suo genere e non è mai stato realizzato nell'Italia centro-meridionale un festival di letteratura civile che partendo dalla Costituzione italiana arriva poi a trattare tutti quei temi che la Costituzione così bella che abbiamo nel nostro paese ci garantisce. C'è ancora speranza nella cultura della lettura? Perché si legge meno ma comunque si investe perché è importante sensibilizzare su temi sociali come quelli della libertà? Ma intanto la letteratura è come un farmaco a lento rilascio. Nel tempo rimane l'effetto della restituzione della consapevolezza della libertà e le parole della libertà, il titolo di questa rassegna, lo conferma. La cultura attraversa, se vogliamo, tutte le deleghe di un'amministrazione, ma anche tutti gli argomenti che da sempre sono contenuti in quella Costituzione che va tutelata. E' ancora il nostro paracadute per evitare le cadute e le derive culturali dalle quali non ci dobbiamo mai distrarre. Due palchi del primo ordine e altrettanti illustri protagonisti della scena culturale barese. Al Teatro Piccini, dal Comune, la dedica a Mariolina De Fano e Rachele Vigiano, patrimonio della città. Questo è il vero patrimonio della città, la cultura. Peppino Montilivetto disse, tu e Mariolina fate venire a teatro anche le persone che non ci sono mai venute. Dici, e perché? Dici, come è venuto un signore e ha detto, dammi una cabina. Con una cabina. Quella è coca di sede. Ah, il palco è la cabina. Con il loro genio hanno lasciato un segno nella storia della città e non solo a loro. Il Comune di Bari ha voluto rendere omaggio intitolando due palchi del primo ordine del Teatro Piccini. Mariolina De Fano e Rachele Vigiano sono state due interpreti e protagoniste della scena culturale barese e non. Chi le conosceva bene racconta di due figure istrioniche innovative che sapevano guardare al futuro, appassionate e tenaci. Mariolina De Fano, scomparsa nel 2020, è forse l'icona più conosciuta del Teatro Bernacolare barese. Rachele Vigiano, venuta a mancare nel 2021, è stata pedagoga, scrittrice, regista e autrice. Oggi con il collega abbiamo pensato che fosse corretto ricordare due donne straordinarie che in tema di formazione e di teatro, di sceneggiatura, di drammaturgia hanno rappresentato la storia del nostro teatro e tutti i colleghi del teatro lo sanno. Beh, ovviamente mancano, mancano moltissimo. Mariolina avrebbe potuto fare ancora un sacco di cose perché era comunque una testa di bambina, proprio un'anziana ma con il cervello di una quindicenne, quindi era proprio folle, quindi avrebbe potuto dare tantissimo. Ovviamente Rachele diciamo ancora di più perché l'abbiamo persa giovanissima e quindi nel fiore, nel periodo di maggior forza. A Bari la mostra dedicata all'8 marzo e alle donne. 8x8 un numero, un simbolo, che ci ricorda il giorno della mimosa e della donna e i muri che le donne cercano di abbattere da generazioni e generazioni, tante almeno quante quelle che partecipano all'allestimento nella Galleria Mise Arte a Bari. 8 artiste che con le loro opere vogliono dirci qualcosa che riguarda proprio noi, dalla più matura ad Acosta con la sua creazione carica di consapevolezza e amaro realismo a quella traboccante di Giovane Speranza realizzata da Ivana Pia Lorusso. Ancora oggi quell'opera che nasce nel 91 rappresentava questa difficoltà di sentirci perenemente nell'angolo e prese anche per i fondelli attraverso questi simboli che sono la mele e le scarpe, le scarpe che ci fanno sentire belle ma non servono a niente, se non ad attirare l'attenzione però non conquistiamo nulla, non siamo noi i direttori o i comandanti della conquista, non interessano gli appari delle donne, non interessano a nessuno. Giovanna è una borsa dell'acqua calda. Ivana Pia realizza una gigantesca borsa dell'acqua calda, quella che dà sollievo ai dolori mestruali. Per lei è ancora possibile abbattere i muri. Ho eletto ad emblema della rivendicazione del diritto al congedo mestruale e che ho cucito con 12 persone a spazio 13 nel 2023, in procinto dell'8 marzo 2023, e che poi ha preso parte allo sciopero transfeminista dell'8 marzo dello scorso anno. A curare l'esposizione d'arte Anna Gambatesa, che vuole dare visibilità all'estro artistico femminile pugliese. Abbiamo creato un percorso circolare, un percorso che va oltre il tempo, un po' come quello di Alice, che vorrebbe andare oltre il tempo. Prima di chiudere, una breve di cronaca ad Accorato. Un rapinatore arrestato dai carabinieri, l'episodio contestato avvenuto il 4 agosto del 2022, quando veniva consumata una rapina a mano armata in danno dei titolari di una tabaccheria della città. Episodio che destò un grave allarme sociale, in quanto si era realizzato in un orario altamente affollato da residenti e turisti. Dunque si chiude il cerchio su questa vicenda. Con questo allora chiudiamo anche la nostra pagina dedicata alle province di Bari, Lebattefoggia. Potete continuare a consultare i nostri aggiornamenti, sempre disponibili, sempre in tempo reale, sul nostro sito www.antennasud.com. Con questo è davvero tutto. Linea ai colleghi con le notizie dalle province di Taranto, Brindisi e Lecce. Un buon proseguimento. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo. Grazie.